Con Nicola Conte del Barano. Nicola, domenica, buona partita contro il Casoria, forse la migliore che avete fatto, peccato per la sconfitta. Sì, penso sia stata la migliore partita che abbiamo fatto, però purtroppo non abbiamo raccolto quanto meritavamo. Diciamo neanche fortunati nel calendario, due sconfitte consecutive e ora si va sul campo della prima in classifica. Sì, sarà una partita difficile, però come è ben sai, in questo campionato tutte le partite sono difficili. Disponibili, infortunati? No, penso siamo tutti disponibili, forse Angelo Arcamone non recupera. Com'è il clima in queste settimane di allenamento? Diciamo che questa settimana, nonostante la sconfitta, abbiamo lavorato un po' più tranquilli perché comunque la prestazione sabato c'è stata. Nonostante abbiamo perso il morale, è stato un poco più alto.